Fine settimana da non perdere quello che attende gli appassionati di beach volley. Da venerdì a domenica, infatti, Montesilvano ospiterà una tappa del campionato italiano. Le gare si svolgeranno nel tratto di spiaggia libera del Jova Beach Party. La tre giorni è stata presentata in comune dal sindaco Ottavio De Martinis insieme all'assessore allo sport Alessandro Pompei e al presidente di Federvolle Abruzzo, Fabio Di Camillo. Alla tappa abruzzese arriveranno i migliori interpreti del beach volley italiano, compresi alcuni abruzzesi, Edgardo Ceccoli, Paolo Di Silvestre, Francesco Vanni e Sissi Costantini. Mancheranno Paolo Nicolai e Claudia Scampoli impegnati all'estero. Dopo le fasi eliminatorie, domenica pomeriggio, a partire dalle 15.30, le finali femminili e poi quelle maschili. Sulla manifestazione sentiamo Fabio Galli, coordinatore attività territoriale e nazionale del beach volley, intervenuto alla presentazione in collegamento web. Ci tengo a dire subito che la tappa del campionato italiano che si svolge Montesilvano in Abruzzo per la Federazione Italiana Pallavolo è una tappa strategica dal punto di vista dello sviluppo del campionato, perché l'Abruzzo è sempre stata da anni terra di grande beach volley, sia come tornei organizzati, ma anche come atleti che sono usciti dalla regione Abruzzo.